Mastro Pennello come personaggio in realtà è nato abbastanza di recente, una cosa molto buffa, è nato per caso, è nato per caso una sera in cui mi sono presentato in un locale, in un locale che è con i cari amici, tra cui in particolare ricordo con piacere la figura di Eddie Lawson, dove sono arrivato con la voglia di disegnare semplicemente, dopo una giornata abbastanza pressante se vogliamo, per cui ho deciso che mi sarei semplicemente seduto e avrei preso il mio pennarello in mano per poter disegnare esattamente quello che sentivo in quel momento, guarda caso le persone che mi circondavano, conosciute e sconosciute. Il risultato è stato che sono stato richiamato a proporre questo tipo di iniziativa, nello stesso posto in più occasioni di fila, in maniera informale, formale quello che potesse essere, spesso accompagnando concerti soprattutto, e poi da lì è nato un filone assolutamente diverso, dove questa stessa attività è stata svolta per conto di più locali. Non è tanto il creare qualche cosa, in realtà noi abbiamo già dentro un flusso creativo, noi non facciamo altro che tuffarci prendendo nel ritmo, lasciandoci trasformare, lasciandoci trasportare in particolare, e questo comporta il risultato finale che può essere la vignetta piuttosto che è un disegno di tipo differente, tutto ciò che rientra, ripeto, nell'ambito di ciò che puoi comunicare a livello puramente visuale. Un impiego interessante, al di là di quello che può essere il suscitare una certa leggerezza, un'emozione piacevole legata al disegno che viene dedicato, legata alla vignetta prima di tutto, che chiaramente vuole far sorridere sui registri che sono quelli legati al mondo del lavoro che uno svolge, e soprattutto a ciò che veramente qualcuno ama fare. Vai passando però questo aspetto che è legato più all'attività che si svolge in locali, principalmente, di sicuro molto importante è la possibilità di applicare questo registro a una forma di cronaca, in qualche modo. Tante volte si fanno dei giochi, ad esempio, non so, mentre qualcuno parla e tu, senza farti vedere, gli fai la telecronaca, le cose stai dicendo, però gliela stai disegnando in tempo reale. È un qualcosa di divertente, ma può avere anche degli impieghi di tipo differente, ovviamente, degli impieghi di un certo significato. Quello che è stato fatto ultimamente, ad esempio, nell'esperienza gallipolina, se vogliamo, nel senso che quello era effettivamente un festival di poesie, parlo di poie, la poesia è un qualcosa di estremamente profondo. In quell'occasione, peraltro, l'ospite d'onore era Milo De Angelis, verrete di Montale, a tutti gli effetti, quello che viene considerato attualmente. È difficile a volte poter parlare di poesia attraverso una vignetta, che vuole essere proprio la leggerezza confronto al resto. In quell'occasione, una piccola dedica che ho voluto realizzare per poterla omaggiare, in questo caso, a questo personaggio molto importante che onestamente mi ha colpito parecchio, è stato riprendere semplicemente un estratto, una piccola parte di una sua poesia, e renderla balloon del fumetto, meglio della vignetta che a lui dedicato. Nel caso specifico, il tutto si è risolto in una persona che sta semplicemente appoggiata su un asdraio di schiena a guardare un mare stupendo, con questo breve fumetto, questo brevissimo testo, che semplicemente raccoglie l'insieme di tutto, di tutte quelle sensazioni che personalmente poi in quel momento ho proprio provato. Cupo niente e dolce niente. Voi siete la stessa cosa per sempre. Secondo me è una profondità comunque molto molto importante, una qualcosa che va ben oltre la vignetta. ciò che personalmente disegno non nasce per essere pubblicata, per far ridere, per magari prendersi due soldi, per andare a bersi le birre piuttosto che fare bene altre cose, nasce da un'esigenza interiore. Con questa filosofia spessissimo mi è capitato di volere lasciare quasi appositamente nei locali una traccia di ciò che faccio. Una traccia, sia chiaro, non richiesta, il più possibile simpatica, gradita. La misura del gradimento lo vedi fino al punto in cui vedi la tua vignetta poi esposta nel locale, la rivedi magari dopo tempo, dopo mesi, dopo anni, via dicendo. Quando si disegnano vignette o cose di questo tipo, non si mira a voler riprendere la morfologia fedele di una persona, assolutamente. Si mira a far sorridere su un'idea, è un'idea, a prescindere dall'età che tu hai. Un'idea è un qualche cosa che ti appartiene comunque, ma che può essere gestito in maniera assolutamente distaccata rispetto a quella che è la realtà. Perché lo spirito della vignetta qual è? Ribattarti di colpo, per qualche minuto, in un mondo in cui tu sarai sempre giovane, bello e sorridente. A prescindere da quello che fai, non fai, dall'età che tieni, non ha nessuna importanza. Quello è lo spirito con cui si fa. E l'idea di poter trasferire questa leggerezza su una parete di un locale, nelle mani di qualcuno, a titolo proprio, non usiamo la parola gratuito, che brutta, per lo spirito del piacere di omaggiarlo vero e proprio. È qualcosa che davvero riempie da una bellissima sensazione. La bellezza di un qualcosa che può essere definito disegno non si risolve sempre necessariamente che ne so, in qualcosa quale c'è accidenti, quanto è bello. Spesso, quando lo guardi così, ti perdi tutto ciò che c'è dietro. Entrare nella mente, nel cuore di un artista diventa veramente molto difficile. È però possibile avvicinarvi, sì, nel momento in cui la vedi nascere. Questo è il bello dei live, ok? Perché tu parti con un foglio bianco e quel foglio bianco alla fine non è. E trovi impressa quella persona con le sue emozioni, soprattutto con la sua leggerezza, i suoi divertimenti, il suo tempo libero, i suoi piaceri.